Liste d'attesa stravolte per favorire conoscenti o pazienti privati. Sono 26 tra medici e infermieri le persone denunciate dai NAS. Dopo le verifiche sulla gestione di 3.884 liste d'attesa, agende di prenotazione per prestazioni ambulatoriali riguardanti visite mediche specialistiche ed esami diagnostici del Servizio Sanitario Nazionale. Tra le persone denunciate ci sono anche 9 medici che avrebbero favorito conoscenti e parenti privati, andando così a stravolgere le liste d'attesa. Le persone denunciate sono ritenute responsabili dei reati di falsità ideologica e materiale, truffa aggravata, peculato e interruzione di pubblico servizio. Secondo quanto emerso dalle indagini, in 195 casi le agende di prenotazione sono state sospese o interrotte con procedure ritenute non consentite. I NAS hanno eseguito ispezioni in tutta Italia coinvolgendo 1.364 tra ospedali, ambulatori e cliniche, sia pubblici che privati in convenzione. Sono stati denunciati medici che stravolgevano le liste d'attesa a Milano, Torino, Perugia e Catania. Tre medici denunciati a Reggio Calabria per l'ipotesi di peculato per aver prestato servizio in maniera fraudolenta presso un poliambulatorio privato, nonostante fossero contrattualizzati il regime esclusiva con il servizio pubblico. A Perugia un radiologo svolgeva attività privata in un altro ospedale mentre era in malattia.